Il premio Howard Certilux per l'arte 2018 è andato all'artista pratolano Silvio Formichetti che incassa un nuovo prestigioso riconoscimento. A deciderlo è stata l'assemblea della compagnia multinazionale specializzata nella cura e divulgazione di prodotti di alta qualità del Made in Italy. Il riconoscimento è stato consegnato nelle mani del maestro dell'informale nella sede romana della società. L'unicità delle sue creazioni artistiche si legge nelle motivazioni del premio che rendono visibili e chiari pensieri ed emozioni in un'apparente confusione. L'innovazione ve la continua e costante ricerca nell'ambito del movimento informale il cui è oggi un riferimento in Europa e per la qualità, l'umanità e il sentimento che l'arte dei Formichetti comunica. L'artista è nato a Pratola Pellinia nel 1969 e dopo i primi lavori di pittura nel 1999 passa all'astrattismo segnico e gestuale. Nel 2011 fu invitato dal critico d'arte Vittorio Sgarbi a prendere parte alla 54esima Biennale di Venezia. Le nostre congratulazioni al maestro Silvio Formichetti.